Raffaella Vagnerini del PD appoggia Ceriscioli. Raffaella salve e iniziamo ovviamente a conoscere la candidata. Sentiamo da lei chi è. Buongiorno sono Raffaella Vagnerini, sono architetto Vivi Vorbino, perché oggi sono qui, sono una professionista, sono sposata, ho due figlie, non ho mai fatto attività politica in senso stretto, quindi non ho mai militato per nessun partito. Ho fatto attività politica in quanto credo che attività politica sia anche partecipare attivamente al dibattito che si svolge all'interno di un territorio, al dibattito che viene richiesto ai cittadini per esprimersi o per dare un contributo al futuro della propria città. In questo senso quindi la mia partecipazione alla vita politica della città è sempre stata attiva. Ho esercitato sempre la professione di architetto in una prima fase a Urbino, ho lavorato anche presso l'ufficio urbanistica del comune di Urbino e quindi ho una conoscenza diciamo del mondo delle istituzioni di come queste operano dal punto di vista amministrativo, dopodiché ho deciso di esercitare a tempo pieno la libera professione, principalmente a Urbino ma con una conoscenza anche del territorio dell'entroterra in quanto sono stata membro di diverse commissioni edilizie nel territorio dell'entroterra. Perché oggi sono qui? Mi è stato chiesto di prendere parte a questo progetto e quindi di impegnarmi attivamente appunto nella vita politica in una fase in cui sicuramente la fiducia nei confronti delle istituzioni e della classe politica ha avuto un momento di arresto e in un momento in cui anche la regione è vissuta dai cittadini come un ente sicuramente lontano a volte addirittura ostile nei confronti del territorio dell'entroterra. Ritengo quindi che sia importante, questa è stata la leva che mi ha indotto a partecipare a questa competizione, partecipare lanciando un messaggio di fiducia, quindi un messaggio di fiducia del fatto che la politica possa tornare o comunque possa riavvicinarsi ai cittadini con un linguaggio e con un senso di appartenenza che può essere rappresentato da una persona che ha sempre svolto la libera professione che proviene dal mondo della società civile e un messaggio di fiducia da parte di chi operando nell'entroterra ritiene che questa entroterra possa essere fortemente rappresentato e rappresentare una risorsa per la regione e quindi in qualche modo ripartire proprio dall'entroterra pesariese per riuscire a creare e a formare una regione più forte e più competitiva e che offre risorse essa stessa poi per l'Italia. Bene, ecco ci vuole parlare del suo programma? Quali sono i suoi punti di forza? Allora questa domanda mi è stata posta in più di una circostanza e devo fare una precisazione perché il programma di un candidato non è un programma che è avulso dal contesto in cui opera quindi ovviamente il programma è quello del Partito Democratico ovviamente è declinato a favore e a favore sembra un termine quasi demagogico E si deve scusare ma diciamo sempre quella famosa tv come l'intervista dell'altra un po' demagogia per cui ecco speriamo sempre di avere qualcosa di più dal candidato Ovviamente il mio compito è quello appunto di raccordare questo programma all'interno del contesto in cui io opero e quindi nell'entroterra e quindi a favore diciamo di questa provincia proprio per le ragioni che abbiamo detto prima e viceversa di rappresentare questa provincia come una risorsa appunto per la regione e quindi all'inverso di portare questa provincia in regione Ora l'altro aspetto che mi preme da cui voglio partire è la necessità di perché è la domanda che mi viene posta principalmente la sfida che mi viene posta dai cittadini che oggi appunto sono lontani dalla politica quella di ripartire con trasparenza, con semplificazione, con senso della legalità e questo primo aspetto che è un aspetto diciamo di metodo e di approccio alla politica mi è senz'altro molto confacente in quanto appunto operando come professionista a stretto contatto con le imprese, a stretto contatto col mondo del lavoro e anche con le istituzioni ho la piena consapevolezza che se non ripartiamo dalla trasparenza e dalla semplificazione di tutto l'apparato burocratico quindi diciamo sia dall'apparato normativo che dei bandi che del modo di operare da parte delle istituzioni noi non riusciremo mai a ripartire da due punti di vista sia perché questo rallenta tutti i processi produttivi tutti i processi imprenditoriali tutte le sfide che oggi i giovani vogliono portare avanti sia perché la mancanza di trasparenza e l'eccesso di burocrazia sono senz'altro uno delle leve che consentono a chi opera con scarsa legalità di approfittare proprio di questi meccanismi tant'è vero che qualcuno mi ha chiesto guarda, dovesse arrivare in Regione dovrai andare a inserire nuove commissioni nuove normative per consentire che sia rispettata la legalità io sono certa, proprio perché opero nel settore dell'edilizia proprio perché opero nel mondo del lavoro che la legalità può essere perseguita solamente andando a semplificare perché l'illegalità si nutre proprio dell'eccesso di burocrazia della complicazione di normative poco chiare quindi questo è un primo aspetto che è trasversale a tutti gli obiettivi che vorremmo raggiungere mi chiedo scusa per esempio, non so se è un articolo di oggi insomma un articolo recente dove dicono, questo non è certo un bel dato che un candidato su dieci praticamente ha dei problemi è indagato questo non è ovviamente il caso di nessuno dei nostri ospiti però insomma non è certo una bella cosa diciamo davanti alla gente soprattutto davanti anche a quelle persone già sfiduciate nella politica insomma per cui la legalità sicuramente è parte essenziale di un sistema politico e bisogna assolutamente lottare per questo tipo di... questo è assolutamente indispensabile perché anche gli investimenti gli investimenti di chiunque voglia oggi operare in Italia vengono scoraggiati da questo messaggio negativo che il nostro paese lancia vorrei anche però precisare una cosa che sicuramente non va a mio vantaggio però questa polemica riguardante alcune persone deve essere un po' riportata nei termini giusti perché un conto è parlare di situazioni che si sono verificate in altre regioni e che sicuramente hanno dei risvolti legali molto pesanti un conto è parlare di circostanze che sicuramente rappresentano una mancanza di stile diciamo sicuramente sono indicatori di diciamo un livello magari di opportunità nell'operare che magari non è esattamente edificante però hanno diciamo un dal punto di vista legale hanno sicuramente implicazioni completamente diverse questo lo voglio dire perché è importante secondo me non nutrire neanche lo scoraggiamento generale nei confronti della politica cioè questi messaggi negativi che vengono lanciati in realtà vanno a a compromettere fortemente comunque la possibilità che il nostro paese e che la nostra regione riparta con slancio quindi io non voglio approfittare di questo per dire che tutto deve essere distrutto perché dalle macerie non si ricostruisce niente quindi ritornando al diciamo chiamiamolo il mio programma ma molto tra virgolette abbiamo parlato quindi di questo primo aspetto di un discorso di metodo che è anche quello di ripartire con un approccio a tutti quelli che sono i temi che la regione andrà a toccare a tutti quelli che sono gli aspetti che sono di argomento di legiferazione della regione avendo un confronto più diretto con gli operatori di ciascun settore posso dire che dal confronto con gli operatori della sanità dal confronto con le imprese quello che è mancato finora è una condivisione di alcune tematiche quindi che siano uscite spesso delle normative dei bandi che non hanno visto i diretti interessati ma non in quanto diretti interessati ma in quanto coloro che hanno la percezione le competenze per dare dei suggerimenti a chi opera in regione di come andare a formulare sia le normative che i bandi appunto non ci sia stato questo confronto quindi questo è anche un aspetto di metodo che vorrei che fosse condiviso ed è un aspetto che io ritengo importante nel mio programma per quanto riguarda invece il programma nel dettaglio appunto in primis la necessità di ripartire dalle aree interne dei territori dell'entroterra in questo vorrei che si ripartisse intanto con un messaggio di fiducia proprio perché la fiducia è uno degli ingredienti fondamentali per ripartire dall'entroterra e perché io ho riscontrato questa grande carica che ancora questi territori hanno e ripartire dall'entroterra quindi in primo dalle eccellenze che l'entroterra può rappresentare eccellenze che noi stiamo andando a documentare anche con dei brevi filmati che rappresentano diciamo semplicemente una sfida un modo per guardarci con occhi orgogliosi che non sono filmati chiaramente esaustivi di tutto quello che ciascuna città o piccolo borgo può rappresentare però fanno vedere lanciano un messaggio e sono tanti messaggi che messi insieme rappresentano una forza si discuteva all'università ultimamente sul fatto che effettivamente non abbiamo eccellenze ciascuna delle quali possa rappresentare diciamo una leva per l'economia quindi la vera strategia che deve essere portata avanti è quella di fare rete di tutte queste risorse di cui disponiamo e sono risorse che da un lato sono risorse tangibili quindi la bellezza del paesaggio tutti i borghi ancora da recuperare o anche in parte già recuperati le eccellenze nel campo della cultura la capacità di saper fare quindi sono tutti aspetti che oggi sono sotto gli occhi di tutti quello che io non mi aspettavo sono anche altre eccellenze o altre risorse che sono più nascoste quindi che non sono tangibili e che sono ancora veramente un grande entusiasmo nell'appartenere al nostro retroterra una grandissima capacità dei giovani di inventarsi nuovi mestieri e questo devo dire è stata la scoperta di questo percorso che io sto facendo ora chiaramente anche altri candidati stanno portando avanti questo messaggio dell'entroterra che deve presentarsi forte ritengo però che nel mio caso il messaggio debba essere lanciato in maniera anche più forte provenendo da Urbino in quanto chiaramente Urbino rappresenta proprio per questo entroterra una risorsa imprescindibile in termini sia di diciamo se vogliamo di marketing pubblicitario cioè ripartire col turismo da Urbino città dell'UNESCO per poi essere una rete territoriale più vasta evidentemente è una risorsa per tutto il territorio ma non solo per questo Urbino purtroppo negli ultimi anni è sicuramente stata una città un po' chiusa su se stessa e non ha svolto quel ruolo di diciamo di capitale di un territorio più vasto ma capitale in consenso di responsabilità cioè con capacità di condividere appunto con tutto l'entroterra una serie di risorse che non sono solamente i suoi monumenti ma sono ad esempio tutto il patrimonio in termini di ricerca di strategie territoriali che può essere rappresentato dall'Università di Urbino ora quindi il ruolo di un consigliere che si candidi per l'entroterra è proprio quello di riuscire a coordinare tutte queste eccellenze far lavorare insieme tutto questo introterra farlo lavorare anche in maniera dialettica con la costa perché poi c'è la consapevolezza che siamo diciamo due poli che lavorando insieme possono essere ancora più forti nei confronti delle politiche regionali e quindi di coniugare un territorio che oggi vede nella perdita della provincia un elemento in meno in questo lavoro che deve essere portato avanti insieme quindi questo è un messaggio di fiducia quindi di ripartire dalle eccellenze ovviamente questo percorso non è un percorso solamente di gratificazione quindi di andare a cogliere quali sono le risorse ma è anche un percorso che deve vedere risolti alcuni nodi di cui probabilmente parleremo dopo che sono dei punti cruciali che sono indispensabili per questi territori sia per Urbino ma appunto per i territori dell'entroterra che sono rappresentati dalla viabilità dalla sanità dal sistema dell'istruzione vi faccio alcuni esempi perché è bello anche raccontare quello che con alcuni esempi quello che sto vivendo e quello che succede nei giorni scorsi è venuto il vicepresidente del Parlamento europeo a far visita diciamo a Urbino io ho scelto di portarlo in luoghi remoti l'abbiamo portato al castello di Belforte l'abbiamo portato a Montefabri dal punto di vista elettorale probabilmente non è stata non è stata una gran provata ma è una scelta diciamo la mia scelta è quella di portare l'Europa a visitare le nostre eccellenze e non quelle banalmente conosciute ma di portare appunto il vicepresidente a contatto con alcune risorse che oggi sono sicuramente marginali ma che rappresentano invece veramente un volano per un'economia del futuro e a parte la gratificazione nel vedere la sorpresa e il senso di meraviglia del vicepresidente anche nei confronti di un paesaggio che poi ovviamente abbiamo percorso e che in una giornata di sole lo ha sorpreso quindi nell'aver visto anche la consapevolezza che devono essere portate avanti delle strategie per andare a inserire queste eccellenze in una rete che può essere veramente importante per la nostra provincia l'abbiamo portato anche a percorrere le strade che collegano questi luoghi con la consapevolezza che fin tanto che non si risolvono questi problemi che sono alla base di qualsiasi tipo di economia non riusciremo a portare avanti alcun progetto e quindi il post che poi abbiamo lanciato e che abbiamo a disposizione la possibilità di rilanciare dei luoghi meravigliosi dei borghi incantevoli che attendono di ripartire ma che sono collegate dalle strade che invece stanno per scomparire chiaramente sono la prima a essere consapevole che si tratta di un problema non direttamente di afferenze in questo momento della regione in quanto la maggioranza delle strade sono strade provinciali quindi il problema si potrebbe aprire e chiudere immediatamente in realtà il problema delle strade è direttamente collegato al problema del disestro idrogeologico quindi disestro idrogeologico che invece è legato alle politiche che vengono fatte riguardanti l'agricoltura riguardanti l'edilizia riguardanti la manutenzione del territorio quindi come operatrice appunto di questi settori posso dire che in questo caso la regione ha delle responsabilità in termini di pianificazione in termini di fondi e di strategie riguardanti le scelte che verranno fatte sono state avviate delle politiche interessanti riguardanti l'edilizia perché io sono una delle prime a essere convinta che il consumo di suolo zero sia veramente una scelta importante occorre investire sulla manutenzione del territorio investire sulla manutenzione del territorio porta dei benefici a lungo termine dei benefici che sicuramente in termini immediati di elettorato potrebbero essere non tangibili nei prossimi cinque anni ma a lungo termine sicuramente sono presenti un investimento la gente ha capito un po' questa cosa perché se ne parla moltissimo se vado a pulire un fiume il risultato non si vede però me hanno capito parecchio le persone anche sulla propria pelle che poi in realtà hai dei disagi incredibili se non vai a intervenire su questo sì ovviamente qualcuno cioè la strada la vedi prima se asfalti la strada la vedi prima purtroppo non si vede se sotto la massicciata è stata ripetuta in termini corretti per cui io penso che il ruolo del politico sia proprio quello di tenere d'occhio un progetto più a lungo termine mi piace dire mi è sempre piaciuto dire anche quando ero dall'altra parte e lanciavo delle sfide a chi si candidava in politica gli chiedevo di rappresentare le esigenze non di chi c'è oggi a esprimere il voto ma proprio di essere il rappresentante di chi oggi non può appartenere a nessun comitato o esprimere nessun voto perché sono i cittadini del futuro quindi il ruolo di chi oggi si presenta in politica se lo fa con coscienza se lo fa non in termini di investimento come professione per avere la professione assicurata e quindi per avere un proprio tornaconto o che questo non sia un proprio investimento personale proprio quello di voler rappresentare un investimento per il futuro quindi di operare in questo senso a prescindere che questo possa rappresentare un consenso o meno in termini di voti quindi è indispensabile oggi intervenire sul disastro idrogeologico e quindi sono importanti tutte quelle politiche che sono strettamente poi legate al mondo dell'agricoltura in primis che prevedono di destinare fondi a questo tema e per quanto riguarda invece il mondo del lavoro che è sicuramente una delle emergenze che noi oggi ci troviamo ad affrontare posso dire che intanto investimenti che vadano nella direzione della prevenzione delle emergenze del disastro idrogeologico sicuramente hanno già delle ripercussioni nel mondo del lavoro è indispensabile sicuramente andare a investire anche sul mondo del lavoro ci ha dato il consenso di avere 5 minuti di più per interagire perché poi se no non riusciamo a rispondere alle domande chiaramente primo tasso ne abbiamo anche parlato nel video l'altra volta è la sanità abbiamo fatto qualche domandina probabilmente chi ci ascolta già l'ha sentita da lei allora sanità marchigiana 22.000 dipendenti 3.000 medici 9.000 infermieri e 10.000 amministrativi la domanda che le ho già fatto e le richiedo non sono un po' troppi questi amministrativi? ho già risposto che probabilmente sì e ho già detto che siamo in una fase intermedia di una reorganizzazione del sistema sanitario credo che gli obiettivi da cui si è partiti siano proprio quelli di andare a ottimizzare il rapporto tra l'apparato amministrativo che necessariamente ci deve essere e che può essere però appunto ridotto andando a operare una concentrazione di alcune funzioni amministrative e il rapporto invece tra chi opera più direttamente a contatto con il paziente riguardo al sistema sanitario quello che vorrei lanciare come messaggio sono quelli che gli obiettivi che io credo che ci si debba porre come regione che in particolar modo si debba porre un partito che appartiene alla sinistra e che sono quello di mantenere alto il livello della sanità pubblica e questo è un obiettivo che non può essere disatteso è un obiettivo che deve mettere al centro il paziente al di là degli obiettivi chiaramente di quadratura del bilancio e di mantenimento di un bilancio che sia sostenibile per la regione però la vicinanza col paziente è uno degli obiettivi che non possiamo perdere di vista e che la sanità pubblica non può perdere di vista ora quello che io lancio sempre come slogan ma che è uno slogan non è solo è quello che la sanità pubblica debba perseguire due risultati che è quello di avere dei centri di eccellenza quindi delle cure di eccellenza che debbono essere usufruibili a disposizione per tutti i cittadini e debba essere accessibile ora mi sembra che diciamo dal punto di vista di questi due obiettivi la direzione che si è intrapresa possa essere un primo passo per raggiungerli in questo senso che è sicuramente per avere centri di eccellenza comparabili con alcune strutture che troviamo al nord d'Italia o che troviamo all'estero sia indispensabile operare una unificazione di alcune strutture perché occorrono grandi investimenti occorrono strutture e strumentazioni che probabilmente debbono essere concentrati in alcuni plessi e che sono poi in grado di attrarre anche personale medico di alta qualificazione per quanto riguarda invece l'accessibilità è indispensabile invece garantire sia la riduzione delle liste di attesa ma accessibilità significa anche avere ospedali o strutture ospedaliere o quantomeno dei presidi che siano diffusi anche nei territori dell'entroterra quindi il messaggio che sta lanciando Ceriscioli è quello di andare sì a portare avanti le scelte che sono state operate fin d'ora però ricalibrando alcune scelte riguardo agli ospedali dell'entroterra mi trova perfettamente d'accordo e quindi in termini concreti sì all'ospedale unico tra Fano e Pesaro qualora questo possa rappresentare veramente un'opportunità per andare a creare un grande centro di eccellenza che consenta ai nostri cittadini di evitare di andarsi a rivolgere altrove per cure che sono cure di importanza fondamentale quando ci sono casistiche serie sì ha un potenziamento dell'ospedale d'Urbino in quanto presidio per il territorio dell'entroterra e sì ha la garanzia però di avere diffusi alcuni centri che possano garantire per l'entroterra più remoto quantomeno l'esistenza di un primo soccorso H24 di possibilità di avere una diagnostica un poliambulatorio e una lunga degenza quindi non possiamo prescindere dal fatto che questi piccoli ospedali devono continuare a garantire questi la interrompo perché c'è chi sostiene che un eventuale ospedale unico è direttamente proporzionale alla riconversione dello stesso ospedale di Urbino cioè nel senso che o fai una cosa oppure ne fai un'altra ovviamente se questa dovesse essere la scelta lei invece le sta mettendo tutte che è la scelta migliore ma se questa dovesse essere la scelta non mi troverebbe d'accordo quindi chiaramente se la merce di scambio dovesse essere questa sarebbe per me inaccettabile ma credo che sarebbe proprio una scelta sbagliata a livello territoriale quindi questo non può essere il ragionamento che viene fatto perché tra l'altro si manderebbe in crisi veramente tutto il sistema sanitario dell'entroterra perché se da Urbino si può raggiungere tranquillamente l'ospedale unico di Pesaro probabilmente da un'entroterra più remoto non altrettanto facilmente quindi questo non può essere sicuramente una scelta non ci sono i tempi garantiti per il pronto soccorso in realtà se si va a vedere vorrei anche sottolineare proprio perché prima si parlava di una politica che deve non guardare alla soluzione di problemi immediati vorrei sottolineare che quando si parla di sanità abbiamo il dovere di parlare di prevenzione e abbiamo il dovere quindi di porci anche di staccarci dall'ottica sempre del dibattito esclusivamente legato all'ospedale ma dobbiamo parlare anche di politiche della salute legate alla prevenzione a tutto tondo in cui rientra anche la politica relativa allo sport alla salute dell'ambiente a tutte le scelte che hanno poi ricadute nel campo della sanità ok abbiamo pochi minuti quindi magari facciamo andiamo secchi nelle risposte finiamo con la sanità anche perché ad altre domande ha già risposto mancherebbe Montefeltro Salute se no domanda secca andrebbe diciamo articolata la domanda cosa ne pensa lei di Montefeltro Salute allora chi ha avuto esperienze di quanto viene fatto tramite Montefeltro Salute ne parla bene quindi io credo che possa essere stata una buona risposta a un'esigenza che c'era sul territorio e quindi che ci sia possibilità di sviluppare dei progetti di collaborazione tra pubblico e privato quando questi comunque hanno come priorità la garanzia di un servizio a favore del cittadino ok posti letto a Pesaro e provincia 2,7 nella provincia d'Ancona 4,6 e qui c'è una piccola differenza qual è il suo pensiero su questo siamo di serie B se volessi essere appunto pungente potrei dire che qualche ragione probabilmente quando i cittadini della provincia di Pesaro Urbino lamentano la lontananza della regione di essere stati marginali rispetto a alcune scelte ce l'hanno quindi questo potrebbe essere uno dei segnali uno degli indicatori effettivamente spesso capita che proprio per questa ragione i cittadini della provincia di Pesaro Urbino si siano rivolti fuori regione per avere alcune cure quindi è un aspetto che sicuramente va tenuto in considerazione probabilmente un cambio di strategia o una ricalibratura di questo parametro va fatta ok allora ci sono gli agricoltori che sono abbiatissimi leggo un pezzettino sono parole di Baldacci della Confederazione Italiana Agricoltori una delle prime battute che ti imparano frequentando gli uffici della regione Marche è i politici passano i funzionari restano questo per dire parla con me che tanto i politici non determinano sostanzialmente nulla il motto ha trovato puntuale conferma di questa legislatura guida spacca l'agricoltura abbandonata nelle mani dei funzionari burocratici con i risultati a tutti i noti il nuovo piano di sviluppo rurale è molto più contorto e complesso del vecchio da questo punto di vista faceva già pena e per questo motivo già massacrato dalla commissione europea risultati l'agricoltura ha perso un sacco di opportunità il burocrate oltre ad un lauto stipendio percepisce un premio produttività che nel caso delle figure apicali supera i 50.000 euro e praticamente lamenta i cittadini come sempre danno e beffa la domanda esosità inefficacia e la scarsa produttività dei regenti della pubblica amministrazione è un problema dell'Italia in genere e delle marche in particolare lei cosa ritiene che sia necessario fare per superare le inefficienze del passato con tanti danni che tanti danni hanno procurato al nostro paese io non sono d'accordissimo sul fatto che tutti i funzionari che operano nelle regioni o nei comuni siano inefficienti io trovo che ci sia un problema di base legato soprattutto a come sono formulate alcune normative che danno un senso di insicurezza da un lato a chi le deve applicare dall'altro da chi le deve rispettare quindi bisogna ripartire sicuramente da una semplificazione che dà maggior possibilità di rapportarsi in maniera seria corretta trasparente posso dire che gli agricoltori hanno ragione nel senso che è una battuta che viene fatta che oggi citava lo stesso Ceriscioli e che gli agricoltori dicono noi volevamo fare gli agricoltori per star vicini alla terra ci tocca invece star vicini alla carta quindi che per partecipare a un qualsiasi bando o per essere tra le imprese biologiche gli adempimenti siano adempimenti assolutamente al limite dell'impossibile è vero però adesso bisogna chiarire di chi sono le colpe quindi forse devono essere condivise tra chi opera dalla politica se sono arrabbiati sicuramente un motivo ce l'hanno si parla tanto di agroalimentare per sviluppare l'entroterra se poi abbiamo i problemi che hanno la burocrazia ai massimi livelli i famosi burocrati che loro lamentano abbiamo le strade tutte rote eccetera allora come facciamo poi a valorizzare l'entroterra non solo siccome io lavoro con gli agricoltori perché mi è capitato appunto di portare avanti con loro dei progetti è vero che partecipando a qualsiasi bando quando si va a collaudare quello che si è fatto si ha un senso di insicurezza che arriva a essere una sensazione di terrore puro e quindi chi già ha un'attività che è soggetta a tante incertezze che sono le incertezze meteorologiche incertezze appunto di poter portare avanti una raccolta incertezze che già mette in che già considera in partenza non può avere anche l'incertezza di avere dall'altra parte un interlocutore che lo accompagnerà fino in fondo rispetto ai progetti che sta portando avanti soprattutto in un momento in cui noi chiediamo all'agricoltura di assumersi un ruolo non soltanto di attività produttiva ma anche veramente di presidio territoriale un ruolo che io dico è anche un ruolo di manutentore di un territorio bellissimo che dell'agricoltura nell'agricoltura ha una delle sue leve cioè il nostro territorio quando noi parliamo di paesaggio noi parliamo di un paesaggio agrario se non diamo una gratificazione e una sicurezza a chi opera in questo settore non dialoghiamo e non incentiviamo a un certo tipo di rapporto che gli agricoltori devono avere con il territorio oggi noi perdiamo il disegno del paesaggio marchigiano che è quello che vediamo nei quadri del rinascimento però quello che loro dicono è che non possiamo essere trattati come dei personaggi mitologici che portano avanti dei percorsi e delle battaglie senza avere appunto un supporto una certezza e un quantomeno una possibilità di dialogo serio con chi governa il nostro tempo è scaduto chiaramente il il suo appello diamoci del tu che radiofonicamente ci siamo dati del tu il tuo appello per conquistarti il voto allora il mio appello il primo è andare a votare andare a votare e prescindere perché il segnale di interesse che si dà andando a votare è un segnale importante di partecipazione e di controllo che gli elettori possono fare rispetto a quello che la politica poi porterà avanti andando a votare di esprimere anche la preferenza quindi di scrivere il nome di un candidato e di esprimere il nome di un candidato dell'entraterra nel caso specifico di Raffaella Vagnerini ok va bene grazie grazie a tutti